Come ogni anno, gli auguri vogliono essere un momento di vicinanza e anche quando la vicinanza non è fisica è comunque dal cuore per alietare questo momento e ritornare ad uno stato interiore di pace, di silenzio e di profonda consapevolezza. Ricorda il valore di questo tempo, il valore di ciò che hai intorno e soprattutto il valore di ciò che hai dentro. E ogni cosa a cui dedichi energia è preziosa, espressione di cura, espressione di amore. Che il nuovo anno sia l'anno della riscoperta e della rinascita. Che queste feste siano fatte di momenti speciali dove riaccendere la consapevolezza interiore è il dono che offri a te stesso per gustare la dolcezza di auguri sinceri. Fai sì che i doni di questo Natale siano speciali. L'ascolto, l'attenzione, il rispetto, i veri doni. Che ogni augurio sia come un soffio di sollievo alla sofferenza di molti e chiunque lo percepisca possa sperimentare il dono della guarigione. Che ogni augurio arrivi come una pioggia di amore che offre il dono del perdono e della speranza. Che ogni pensiero diventi come un passo in più per avvicinarsi a qualcosa di grande. Con sentimenti nuovi che ti fanno danzare al ritmo della gioia. Per te tantissimi, tantissimi auguri dalla Brahma Kumaris.